Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale del Jolly, oggi siamo qui per ricordarvi del nostro grandissimo torneo che si terrà il 14 maggio a Milano, WESM, via Santo Guzzone numero 8, Prize of Desire è il nome del torneo, quindi potete trovarlo sulla nostra pagina Facebook, andate subito a guardare, vi metteremo anche i link in descrizione, Prize of Desire non c'entra niente con WESM, quindi non fatevi ingannare, solo perché il premio sarà molto ricco, infatti si sarà in numerosissimi box, più box ci saranno in palio ovviamente, inoltre il nostro grandissimo sponsor Carmarket ci ha appena annunciato che oltre al nostro premio ci sarà anche un'ingente aggiunta di buona Carmarket per la top, scoprite la descrizione, mi raccomando, per iscriversi, commentate o il post sull'evento, oppure un messaggio privato alla pagina del Jolly, oppure un messaggio privato a un membro del Jolly, non serve la cosa, è un torneo non sanzionato Konami, quindi possiamo giocare tutti, niente penso che sia tutto, vi aspettiamo strameganumerosi, un saluto, Wally Jolly! Ciao! Ciao!